A Campus Wave l'ingegner Federico Delfino in rappresentanza alla conferenza stampa d'apertura di Deona per la Fondazione De Mari e delegato per il rettore presso il campus universitario di Savona. In metro la Fondazione De Mari che è la massima finanziatrice del progetto Ideona, ci avrete creduto tanto in questo progetto? Cosa vi ha spinto a credere in Ideona 2013? Sì, certamente. La Fondazione è in questo momento l'ente di supporto del territorio in diversi settori. Penso al sociale, penso alla cultura, penso al turismo. Ideona ricade in questi ultimi due settori che ho appena citato. Quindi è un'iniziativa che abbina all'aspetto culturale anche una valenza turistica, quindi può essere anche un motore turistico per il territorio, nel senso che può richiamare, una manifestazione che può richiamare e attrarre pubblico non solo della città di Savona. E quindi la Fondazione adempia una delle sue missioni nel momento in cui supporta iniziative di questo valore. Ideona per il secondo anno a Savona. Per il secondo anno c'è ancora questa collaborazione che aumenta sempre di più con il Campus Universitario di Savona, Campus Wave e i suoi ragazzi. Sicuramente un buon incentivo e una buona finestra per chi opera in questo laboratorio. Assolutamente sì. Questo direi che è uno degli aspetti più importanti della manifestazione. L'interazione fra diverse componenti attive nella città di Savona. Penso al Comune che ha il suo programma di manifestazioni, il suo programma culturale che propone alla cittadinanza e penso all'università che è ormai fortemente radicata nella città di Savona e che ha questa forte valenza nel settore della comunicazione con questa offerta molto caratterizzante perché particolare in Italia del corso di studi in scienza della comunicazione anche con le sue ricadute nei nuovi media, quindi con gli aspetti di social network legati quindi alla parte più tecnologica. È importante questa sinergia per i nostri studenti che sono bravissimi e che hanno messo in piedi iniziative importanti di caratura nazionale come la prima web radio dell'Università di Genova, Campus Wave ma anche tutto quello che poi ha seguito Campus Wave quindi con le ricadute anche in altri settori comunicativi come quello della televisione. Quindi l'interazione tra i promotori di Deona, l'iniziativa stessa con i suoi contenuti, l'aspetto comunicativo e culturale e l'aspetto di formazione che può avere per uno studente di comunicazione ritengo che sia la cosa principale dal punto di vista della mia veste di professore universitario.